A Foggia, McDonald e Fondazione Ronald McDonald donano 50 pasti caldi a settimana insieme a Banco Alimentare della Daunia che vengono distribuiti alla parrocchia di Gesù e Maria. Le donazioni fanno parte di Sempre Aperti a Donare, l'attività proposta anche quest'anno da McDonald con Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald in collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant'Egidio e altri enti caritativi presenti sul territorio. Con il Covid sono aumentate le persone che hanno bisogno di aiuto? Purtroppo sì, è un dato che continua a crescere sempre di più, non solo dal Covid ma anche da questo momento di crisi economica che stiamo vivendo. Rispetto a prima è cambiata anche proprio la figura del bisognoso. Una volta si parlava di bisognoso, di famiglia numerosa, di immigrati, ma oggi una famiglia monoreddito vive in uno stato di bisogno. Oggi una famiglia che ha un mutuo e con gli aumenti di bollette purtroppo rientra nella fascia della povertà. L'iniziativa è stata lanciata per la prima volta nel 2020 con l'obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento d'emergenza come quello affrontato a causa della pandemia. Quest'anno l'azienda e la sua fondazione rinnovano la proposta alla luce del complesso scenario che vede aumentare di giorno in giorno il numero delle persone in difficoltà. Grazie. Grazie. Grazie.